Dovete immaginare che tutto l'ambiente intorno a voi sia il più simile possibile a quello che si crea quando attaccate il vostro bambino al seno. Perché? Perché il nostro corpo non è una macchina stimolo risposta, attacco una macchina, esce latte, è un po' più complesso di così. Quindi dovete immaginare di ricreare tutte quelle attenzioni, quell'ambiente, quella tranquillità, quell'intimità che mimi una vera poppata. E se potete non concentratevi sulla macchina, sulla quantità, ma concentratevi sul vostro bambino se lo avete a disposizione o su tutto ciò che vi ricorda il vostro bambino per le mamme magari che hanno i piccoli ricoverati. Vi tenete vicino una sua foto, una sua tutina, qualcosa che sappia di lui, che abbia il suo odore, in modo tale che mettiamo in campo tutta l'attivazione della cascata neuroendocrina, l'ossitocina, tutti quegli ormoni del benessere che sono anche gli ormoni della lattazione. Quindi trovate uno spazio comodo, un angolo del divano che vi piace, vi mettete davvero a vostro agio senza elementi interferenti e vi dedicate questo spazio di lavoro pensando al vostro cucciolo.